Ciao a tutti! Come state in questo allungamento di quarantena? Dai, speriamo tutti bene, anche noi stiamo bene, se stiamo sempre a casa. Adesso facciamo insieme il pane attimo, cioè senza lievito. Per fare il pane attimo ci serve 200 grammi di farina, poi 100 mm di acqua e poi un cucchiaio di olio libero e poi un pizzico di sale. Grazie a tutti! Eccoci qua, già pesato 30 minuti. Ora, dividiamo la pasta. E adesso facciamo riparine. E poi tiriamo con il matarello. Grazie a tutti! Adesso... Cociamo nella padella cada... Grazie a tutti! 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 Ciao, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao!